www.oscarluigi.com conferenza stampa del corecom il taccuino il 31 gennaio prima dell'avvio dei lavori dell'aula l'ufficio di presidenza ha incontrato la delegazione del comitato che chiede l'istituzione del comune di Mappano il consiglio ha poi commemorato il presidente merito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e l'ex consigliere regionale Enrico Gastaldi dopo interrogazioni e interpellanze sono stati approvati all'unanimità quattro ordini del giorno sull'imposta municipale pubblica IMU a favore dei lavoratori Servirei Lex Wagon League sul plantario di Pino Torinese e sui lavoratori in mobilità respinto invece un ordine del giorno sugli ammortizzatori sociali l'aula ha approvato anche una deliberazione sull'ambito territoriale dell'agenzia interregionale per la gestione del fiume Po alle 13 in Salaviglione i consiglieri hanno infine ricevuto una delegazione di operai del settore forestale grazie a tutti